19 novembre 1944, Cossano Belbo, Cuneo, Santuario Madonna della Rovere. L'ex foto tratta uno degli ultimi e feroci rastrellamenti nazifascisti. Alcuni tedeschi arrivano fino in cima alla collina della Rovere e catturano Ferrero Teresio Fiorin sulla porta della sua casa. Ferrero viene condotto nelle carceri di Cuneo e rischia poi di essere trasferito nei campi di concentramento tedeschi. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle nuove pubblicazioni.